Sai quanti vestiti comprerai a tuo figlio nei prossimi dieci anni? Più o meno così. E le scarpe? Paio? Dopo paio? Dopo paio? Ma attento! E pensa a quanti seggiolini dovrai cambiare. Fregato. Perché Recaro Toria Elite? È un seggiolino che cresce con tuo figlio. E perché Recaro significa comfort, design e sicurezza da oltre cento anni. Ecco perché. E i pannolini? Per fortuna li userà solo qualche anno. Grazie.